Nel regno delle due Sicilie restaurato dal congresso di Vienna del 1815 la vita non era mai stata facile ed intorno al 1830 più che mai per il riflesso delle lotte politiche che stavano coinvolgendo tutta l'Europa Ferdinando II di Borbone divenuto re l'8 novembre 1830 aveva faticato non poco per sedare vari tentativi rivoluzionari ed aveva vissuto il drammatico episodio dell'eruzione del Vesuvio del 1836 alle soglie del suo nono anno di regno si trovò a dover decidere se accettare o meno il nuovo mezzo di trasporto che stava prendendo sempre più piede in altri paesi d'Europa la ferrovia Fino ad allora i viaggiatori che dovevano recarsi in altre località del regno si servivano di diligenze che partivano dall'odierna piazza del mercato di Napoli e si immettevano sulle scarse strade di comunicazione le cui condizioni erano tutt'altro che soddisfacenti in quel tempo un ingegnere francese Armando Giuseppe Bayard de Lavantrie era venuto a Napoli come rappresentante di una società che aveva in lui stesso nei suoi due fratelli Ferdinando Giovanni e Carlo ed infortunato de Verge gli unici soci per studiare la possibilità di realizzare un cammino ferrato egli proponeva un collegamento tra Napoli e Nocera con una diramazione per Castellammare e l'opera costruita a spese e rischio di una società per azioni da lui stesso costituita sarebbe passata allo Stato dopo 99 anni di concessione la richiesta fu giudicata da quasi tutti i ministri come una cosa pazza ma la riconosciuta utilità convince il sovrano a concedere al francese la facoltà di realizzare la sua ferrovia ottenuta l'autorizzazione i fratelli Bayard e il De Verge costituirono a Parigi il 21 febbraio 1837 una società in nome collettivo ed in accomandita per via di azioni avente quale ragione sociale società per la strada di ferro da Napoli a Nocera e Castellammare i fondi necessari alla realizzazione dell'impresa furono raccolti attraverso l'emissione di due serie di azioni con titoli da mille franchi francesi ciascuna per un totale di 12.500 titoli venne quindi redatto il progetto definitivo della ferrovia ed i lavori ebbero inizio il 5 luglio 1838 per la partenza della linea da Napoli fu scelta una zona compresa tra il Forte del Carmine e la Porta Nolana lungo la via detta dei fossi fuori le mura aragonesi che ancora correvano lungo la citata strada la stazione come appare da una stampa dell'epoca prevedeva il fabbricato viaggiatori costituito da due corpi laterali ad un solo piano uniti da un'ampia tettoia in muratura a tre luci e sovrastante i binari la costruzione della linea procedette con regolarità pur se attraverso alcune difficoltà di natura locale il primo tronco da Napoli al Granatello di Portici lungo poco più di 7 chilometri fu ultimato puntualmente e l'inaugurazione prevista per il 28 settembre e rinviata al primo di ottobre avvenne in realtà il 3 ottobre 1839 si legge al riguardo nella rubrica notizie interne del giornale del Regno delle Due Sicilie del 5 ottobre ad un segnale dato dall'alto di quella tenda reale partì dalla stazione di Napoli il primo convoglio composto di vetture sulle quali ordinatamente andavano 48 invitati 60 ufficiali dell'armata di sua maestà 30 soldati di infanteria 30 di artiglieria e 60 marinai dei nostri reali legni e chiudeva il convoglio nell'ultima vettura la musical banda della Guardia Reale giunto esso al Granatello tosto tornò alla stazione onde era si mosso agganciata alla vettura reale il treno ritornò tutto vuoto a Portici dove Ferdinando II si era trasferito con famiglia e corte sin dal mattino non essendo al momento la stazione di Napoli ultimata dopo le congratulazioni di Rito fu innalzata la fiamma rossa sul padiglione reale di Villa Carrione ed alcuni colpi di cannone furono sparati dal forte del Granatello il re dopo aver visitato la stazione di Portici ed aver assistito alla manovra per girare la locomotiva Vesuvio nella posizione di ritorno fece rientro nella capitale a bordo del convoglio alle 4 del pomeriggio dello stesso giorno la linea fu aperta al pubblico e dal 31 dicembre di quell'anno avevano viaggiato su questo tratto di strada ferrata ben 113.116 passeggeri i costi per il trasporto sebbene alti non erano proibitivi chi poteva permettersi la prima classe pagava infatti per andare a Portici 15 grana oppure poteva spenderne 10 per la seconda o 6 per la terza cifra quest'ultima di poco inferiore al costo di un quotidiano dell'epoca nella ferrovia del Bayar era uso assegnare ad ogni passeggero il posto tramite rilascio di biglietto numerato il cui prezzo era rimborsabile se la partenza del treno avveniva con un ritardo di oltre 15 minuti il 6 settembre del 1840 la ferrovia raggiunse Torre del Greco il primo maggio del 41 Torre Annunziata ed il primo agosto del 42 fu aperta la diramazione per Castellammare il progetto iniziale fu completamente realizzato il 18 maggio 1844 con l'inaugurazione del tratto Torre Annunziata Nocela con il completamento della linea ferroviaria si ebbe l'ultima azione dei lavori relativi alla stazione di Napoli il cui fronte fu portato sulla via dei fossi mediante la costruzione di un edificio a due piani con pianta a ferro di cavallo i viaggiatori dopo aver acquistato il biglietto presso aperture protette da grate e che davano sulla via pubblica accedevano attraverso un atrio al piano dei binari i viaggiatori di prima classe prendevano posto in vetture realizzate a Napoli le quali erano simili a diligenze e dotate di sedili imbottiti il comfort era legato al costo del biglietto carri con panche di legno venivano impiegati per le restanti classi e non dovevano essere troppo comodi tanto che ancora oggi in dialetto il termine charaballo sta ad indicare un veicolo scomodo e traballante come dovevano essere gli charabans del Bayard il nuovo mezzo di trasporto non mancò di accendere la fantasia degli artisti del teatro popolare appena 20 giorni dopo l'inaugurazione della Napoli Portici il commediografo napoletano Pasquale Altavilla mise in scena al teatro San Carlino la ridicola partenza di Pangrazio sul vapore quando la ferrovia raggiunse Castellammare lo stesso Altavilla propose ai frequentatori del vecchio teatro di piazza Castello n'aiuta Castellammare per la strada di Fierro con interpreti Pasquale Cocoziello Anselmo Tartaglia e Pulcinella su quelle stesse rotaie a circa 20 anni dalla inaugurazione del tratto Napoli Portici il 7 settembre del 1860 passò il convoglio che trasportava nella capitale Garibaldi con le sue truppe gli eventi vollero che l'epilogo della strada ferrata del Bayar fosse legato a quello del governo che l'aveva voluta in autoborzì 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 grazie a tutti